Andrea Ragaini, vice DG Banca Generali per Affariitaliani.it. Siamo a Cernobbio, una domanda sull'andamento positivo dei mercati. Cosa ci possiamo attendere nei prossimi mesi? I mercati sono in una fase di crescita, le condizioni del quadro congiunturale economico, l'abbiamo sentito anche qui a Villa Destra, sono positive. Ci sono molti dubbi inferiori rispetto al passato sullo sviluppo economico, quindi i mercati potrebbero continuare a crescere anche se in modo più moderato forse rispetto agli ultimi mesi. In questo quadro il ruolo di Banca Generali? Noi ci stiamo in risparmio delle famiglie italiane, ci siamo in patrimonio, quindi siamo molto attenti a fare un'allocazione che sia prudente nel corso del tempo. Scusiamo in questo momento la crescita dei mercati azionari con un'attenzione particolare al mondo europeo, nell'ambito obbligazionario un'allocazione prudente con una duration non particolarmente alta, anche se pensiamo che i tassi potrebbero crescere in modo molto graduale e molto lento. Quest'anno è stato l'anno del lancio e dell'esplosione dei PIR, anche Banca Generali ha in serbo l'ingresso in questo campo? Noi ci siamo già nel campo dei PIR, abbiamo in fermo nuove sorprese, e soprattutto una nuova modalità di affrontare il PIR, non solo PIR incentrato su un singolo strumento di investimento, ma una pluralità di PIR che danno la possibilità di diversificare in modo molto maggiore ai nostri clienti. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. A te.